Più che i canali, io cercherò di valutare la qualità di quello che mettiamo nei canali. Diciamo che dal punto di vista dell'accesso ai canali, la componente demografica determina molto quello che succede. Facebook è chiaramente lo strumento più utilizzato dagli under trend, mezzi tradizionali, giornali, stampa, radio, sono molto più utilizzati dagli over 65, quindi solitamente la distribuzione di accesso dipende più da questo fattore che da altro. Però se dovessi dare un consiglio neutro che non riguarda l'età ma che riguarda l'accesso, io cercherei più di valutare la qualità di quello che c'è dentro questi canali. Anche l'idea è che su Facebook l'informazione sia necessariamente più veritiera rispetto ai giornali o viceversa, che le bufale stanno online e offline non ci sono. Queste generalizzazioni non mi convincono molto. Diciamo che se una persona può scegliere il giornalista o la testata da seguire e la scegliere su tutti i canali in cui è possibile farlo, fa secondo me la scelta migliore. Penso che comunque non ci siano criteri delimitanti, non penso che ci siano cose più corrette e cose meno corrette da comunicare. Dobbiamo tener conto di alcuni aspetti ad esempio, cioè aspetti legati alla tipologia dei contenuti che ad esempio sono più popolari online perché hanno determinato modo di essere confezionati. Faccio un esempio, c'è stata una ricerca abbastanza recente a cavallo delle olimpiedi di Rio fatta da Newsweep, che è un sito americano, che ha studiato quali fossero i contenuti che diventavano virali durante le olimpiedi. E loro hanno isolato alcune caratteristiche che in qualche modo sono predittori di un contenuto di qualità a prescindere dalla... o almeno parzialmente a prescindere da quello che poi c'era dentro. All'esempio è un contenuto che ha buone possibilità di riuscire, è un contenuto che racconta la storia individuale di una persona o di una persona famosa che ha fatto qualcosa di meritorio o di una persona che è diventata famosa facendo qualcosa di meritorio. All'esempio c'era citato il caso in questa ricerca di quella gara dei 5.000 metri femminili alle olimpiedi in cui i due ragazzi si sono scontrate, una ha fatto forza all'altra, sono arrivate insieme al traguardo, per ultime il comitato olimpico ha deciso di riammettere perché quell'episodio incarnava in pieno lo spirito di Decobertin, l'importante è partecipare. Questa storia raccontata sui social ha avuto livelli di condivisioni enormi, ad esempio quello è un elemento importante. Altro elemento è il punto di vista, cioè quando io posso raccontare una storia dal punto di vista personale ed è un punto di vista personale autorevole, quel tipo di contenuto ha più possibilità di emergere o quando un contenuto ti permette di medesimarti con la vita delle persone, quello è un altro tipo di contenuto che può emergere. Quindi più che ragionare di contenuti sì e contenuti no, probabilmente dobbiamo ragionare su quali sono le tecniche che rendono un contenuto più o meno efficace di altri. Facebook ad esempio sta cambiando adesso l'algoritmo che determina il livello di visibilità di un determinato contenuto in un page. Quando io sono una media o anche un cittadino che vuole informare, sapere come funziona un algoritmo per me è cruciale per sapere cosa devo fare. Nel nuovo algoritmo ad esempio Facebook sta provando a penalizzare il cosiddetto clickbaiting, cioè quei titoli che vengono utilizzati da alcune testate in cui si crea un allarmismo tipo guarda cosa è successo qui, incredibile, scopri, i giornali non te lo dicono, queste formule che vengono utilizzate per creare attenzione. Facebook sta decidendo di punire quel tipo di titoli perché quel tipo di titoli spesso sono mancanti di informazioni per il lettore fondamentali per decidere se aprirlo o no un contenuto. Quindi ad esempio fare i titoli che non ingannino il lettore in questo momento è una chiave di volta per avere un contenuto di qualità. Quindi da genere più di tecnica che di che cosa ci mettiamo dentro. La seconda domanda è molto facile, credo che sia nell'ordine dei 10-15 secondi dal risveglio al prima scrollata. Per quanto riguarda l'uso dipende molto da quanto tempo uso il computer, cioè è eterogeneo. Se sto al computer non sto allo smartphone, quando invece sono in giro lo smartphone lo uso molto di più. Però sono uno di quelli che appartiene a quella categoria che i giornalisti solitamente dipingono come degli asociali o dei disadattati, cioè di quelli perennemente connessi e perennemente con uno schermo davanti. Il web ha semplificato alcune questioni soprattutto legate a vicende procedurali. Alcune pratiche burocratiche sono state semplificate. Comprare un prodotto su Amazon è semplicissimo. Ci sono alcune cose che sono obiettivamente comprare una vacanza, accedere a determinati prodotti e servizi è sicuramente più semplice rispetto al passato. Anche verificare la tendibilità di una notizia è tendenzialmente più semplice rispetto al passato. Se si è complicata una cosa, soprattutto nel mio lavoro, che è un lavoro anche di comunicazione politica, è ad esempio definire quali sono i meccanismi che determinano i comportamenti di voto delle persone. So che è una cosa che può apparire minoritaria rispetto al mare magnum di cose che si possono fare su internet. Però ad esempio sapere per quale motivo una persona voterà per un tizio e non per caio, che è una delle basi del nostro lavoro, è diventato infinitamente più complicato perché sono molti di più gli agenti che influenzano le prese di decisione. Prima era la famiglia, la scuola, la chiesa, la televisione, gli amici, era facile. Adesso su Facebook chiunque in teoria ha un potenziale di influenza su chiunque altro. E soprattutto siamo in una fase in cui ci si fida sempre di meno le medie tradizionali perché li riteniamo di parte, li riteniamo troppo vicini al potere, li riteniamo troppo schialzi al soldo della pubblicità. E parallelamente tendiamo a fidarci sempre di più di persone che noi riteniamo a noi prossime, gli amici, i conoscenti, i compagni di squadra del calcetto e così via. Quindi i meccanismi che determinano le scelte, i comportamenti di acquisto, i comportamenti di voto sono molto molto più difficili da analizzare, da predire, da leggere. Allora ci sono strumenti LinkedIn su tutti che sicuramente ha creato una facilità maggiore di collegamento tra domande e offerta. Io però penso che il tema del lavoro sia in generale un tema abbastanza complicato perché, e qui apro parentesi enorme, non mi approfondirò molto, però la globalizzazione in sé porta delle componenti di maggior accesso al lavoro da un certo punto di vista, ma anche di maggiore competitività di offerte di lavoro e anche di corsa di basso. Il web è uno dei simboli della globalizzazione. La globalizzazione in sé non è solamente positiva per il mondo del lavoro, molto spesso c'è gente che ha perso il lavoro a causa della globalizzazione. Adesso c'è un dibattito negli Stati Uniti, ma non solo, Trump lo sta cavalcando molto sul fatto che alcuni tipi di lavoro, grazie all'automazione, grazie alla tecnologia, sono stati sostanzialmente subappaltati a robot, subappaltati a computer, subappaltati all'algoritmo, quindi fabbriche si sono svuotate a causa del web. Quindi ci sono lavori, magari lavori di qualità, lavori ad alta quota di competenza che probabilmente sono più facili oggi da ottenere. Ma ci sono lavori, diciamo, la cosiddetta classe media che è probabilmente la web ha più perso che guadagnato in termini di accesso al mercato del lavoro. Allora, vediamo. Chiara Ferragni è la prima. No, non lo conosco. E questo è Fedez, molto più che un influencer. Un leader politico oramai. Secondo me sono sostanzialmente, dal punto di vista delle categorie, sono sostanzialmente gli stessi di questo millennio. L'unica differenza sono forse magari proprio queste figure qui, che non hanno un background riconoscibile. Chiara Ferragni di base è nata quasi dal nulla. Diciamo, questa è forse la principale differenza. Però gli influencer, intesi come persone che sono veramente in grado di modificare comportamenti, serie di vita e costumi, secondo me sono sostanzialmente gli stessi. Sono i grandi leader sportivi, i grandi personaggi sportivi, i grandi leader culturali, quindi musicisti, cantatori, e anche i grandi leader politici. Io penso che siano quelli tuttora, nell'accezione più ampia del termine, cioè non influencer inteso solo come persona che ha un grande seguito online e che è in grado di magari condizionare alcuni comportamenti di consumo, come persone che ti ispirano, sono più o meno quelli. Sport, cultura e politica, i tre motori principali. Poi ci sono altre figure, magari la medicina, però diciamo quelli sono i grandi motori delle trasformazioni sociali. Mino Raiola. Sono serio? Mino Raiola, per chi non lo sa, è un agente calcistico, la cui storia è molto interessante. Mino Raiola è il figlio di una famiglia di pizzaioli di Angri, provincia di Caserta, che va a vivere in Olanda, perché Angri è il capoluogo capitale mondiale della passata di pomodoro. Vanno in Olanda per rifarsi una vita, Mino Raiola fa il cameriero, a un certo punto appare il direttore sportivo dell'Arlem, una squadra di serie B olandese, che vede questo personaggio vestito in modo più, diciamo, magniloquente, più altezzoso di lui, e fa chi sei, chi ti credi di essere. Cominciano a cenare la prima, la seconda, la terza volta, a un certo punto, questo Mino Raiola dice, tu non capisci nulla di calcio, e il direttore sportivo dell'Arlem dice, ok, fallo tu al posto mio, diventa il vice direttore sportivo dell'Arlem, comincia a trattare i giocatori, ieri ho scoperto che il primo giocatore che Mino Raiola l'ha venduto era Roy del Foggia, anni 90, di Zeman, a quel punto da Roy comincia a seguire una storia interessante, comincia con Edvedi, Ibrahimovic, Pogba, adesso nello scambio che ha portato Pogba dalla Juventus al Manchester United dura in casa 25 milioni di euro di commissione personale, quindi è uno che non ha mai avuto le luci della ribalta dal punto di vista mediatico, è uno che è il migliore a fare il suo mestiere, è uno a cui non daresti una lira dal punto di vista di come appare, è uno che viene sempre criticato per essere uno grezzo, e invece, tutto sommato, è un'eccellenza mondiale, quindi mi sta simpatico perché è uno che apparentemente a cui non daresti una lira, ma che è invece il numero uno nel suo mestiere. Allora, diciamo che l'evoluzione dei media ha dato secondo me una maggiore democratizzazione dell'informazione come primo elemento, cioè la possibilità da parte delle persone di sapere questioni che hanno a che fare con la gestione della cosa pubblica è cresciuta esponenzialmente grazie a media, quindi diciamo che è un contributo prevalentemente positivo, poi ci sono delle differenze magari culturali, in Italia i media sono sempre stati troppo vicini alla politica, e quindi questo elemento di imparzialità anglosassone noi non l'abbiamo mai vissuto davvero in prima persona. I social media secondo me hanno creato due effetti collaterali, uno positivo e uno negativo. L'effetto positivo è che questa democratizzazione dell'informazione è cresciuta esponenzialmente, nel senso che oggi, faccio un esempio banale, io non sono obbligato a comprare Repubblica, leggimi 48 pagine di Repubblica, posso prendere l'articolo che mi piace da Repubblica, quello che mi piace dalla stampa, quello che mi piace dall'Espresso, dal Fatto Quotidiano, da New York Times, eccetera, eccetera. Posso fare il DJ dell'informazione, posso pescare, quindi posso allargare ulteriormente il mio accesso, quindi la democratizzazione dell'informazione è ancora più vera rispetto ai mezzi tradizionali. Un effetto collaterale è quello invece della polarizzazione delle opinioni, cioè è stato dimostrato più volte che c'è una tendenza da parte di alcuni utenti della rete a entrare in una cosiddetta filter bubble, cioè una bolla in cui io tendo a seguire solo persone che la pensano come me, e quindi tendo a informarmi, continuando a cercare conferme delle mie convinzioni originarie e questo non fa altro che radicalizzare il dibattito e non creare un vero confronto, ma chiudermi in tanti piccoli recinti da cui non esco. Questo è un rischio che bisogna in qualche misura scongiurare. L'unico modo per farlo, a mio avviso, è cercare di avere sempre curiosità, cercare sempre di darsi, quasi come compito a casa, una quota di tempo del giorno che noi dedichiamo all'informazione per andare a cercare delle informazioni di fonti che noi magari non amiamo, che ci stanno antipatiche, di opinioni politiche diverse da Nostra, per cercare di mantenere entrambi i piedi nel posto giusto e non perdere mai la lucidità e non essere mai schiavo dalla bolla in cui si tende a finire certe volte. Penso che ci siano almeno due o tre sfide importanti. La prima sfida è il controllo dei dati, cioè quanto queste grandi aziende saranno disposte a condividere con gli utenti le politiche di gestione dei dati. Io penso che a un certo punto gli utenti si romperanno le scatole di sapere che Facebook, ad esempio, è totalmente non trasparente nella gestione e che preferiranno un posto dove le regole sono più chiare. Quindi secondo me questo è il primo elemento decisivo. Il secondo elemento è l'integrazione, cioè quanto questi canali saranno in grado di offrirvi tutti i servizi in un posto solo. La settimana scorsa su Internazionale è stato pubblicato un video molto interessante su come funziona WeChat. WeChat è una social network cinese che è solo in Cina. WeChat fa tutto quello che fanno Facebook, Snapchat, LinkedIn, TripAdvisor in unica interfaccia. Questo è il suo segreto. Penso che quanto più ci sarà integrazione, quanto più questi strumenti saranno in grado di mangiare gli altri, tanto più saranno strumenti di successo. Il terzo elemento, secondo me, è un elemento che sento almeno io molto, come ha detto ai lavori, ma poi magari non è un elemento centrale, però io lo sento molto forte, è che ci siano strumenti che permettono in modo più o meno collaborativo di determinare in modo rapido se è una fonte attendibile o inattendibile. Io vorrei tanto un tasto di Facebook e una bufala. Chiaramente questo tipo di tasto è molto difficile da creare perché è molto difficile evitare la delazione, cioè che magari un contenuto verosimile viene citato da 3.000 persone di un determinato partito politico che vogliono che quel contenuto sparisca da Internet, quindi tutti si uniscono e fanno sparire un contenuto vero. Quindi è molto difficile creare un sistema totalmente orizzontale di verifica delle bufale. Però vorrei tanto che ci fosse un metodo rapido per distinguere fonti autorevoli da fonti non autorevoli. E chi riuscirà a vincere questa sfida secondo me avrà un bel vantaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.